Signora Perrupato, a lei la conoscono più come signora Perrupato. Lei ama la poesia e in questo periodo di pandemia, di coronavirus, ha scritto tanto. Tra queste una dedicata proprio al coronavirus. Io ho scritto di mio pugno perché sono rimasto colpito alla prima curva di questa brutta bestia che ha invaso il mondo e ci ha privato degli appetti della nostra libertà, delle nostre abitudini. Resta per noi la speranza di poterne uscire vittorioso. Perché avremmo bisogno maggiormente nel sud di pace, lavoro e serenità. E infatti in questo periodo la serenità non c'è, siamo tutti preoccupati. Però la nostra speranza è appunto quella di uscire dal coronavirus. Io voglio immortalare per rimanere come ricordo, anche se è stato molto triste per le tante stragi e vittime che ha causato. Non nascondo che alla prima curva, nel vedere tante bare ammassate. Ed è quello che ho scritto sulla poesia che ho fatto. Per non dimenticare? Per non dimenticare?